eccoci qua 10 10 10 ottobre 2011 presumiamo che sia l'ultima uscita vero freddo 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 va bene facciamo un giretto dai nonna fa freddo sono gli ultimi ragazzi ma gli ultimi proprio questi ultimissimi fa troppo freddo ragazzi uno ma è dura oggi è dura è dura ragazzi dov'è nonna sarà mica su quella roccia lì urco zio va che bello porca miseria oh ma dove si è nascosto lui porca miseria vi facciamo la foto questo è piccoletto ma è fresco te ma sarà anche freddo più che fresco è freddo è freddo è freddo si sembra fresco lui qua vicino a questo ramo era proprio attaccato al ramo che fresco è freddo si è fresco è freddo è freddo è freddo è freddo i tempi Porca miseria tutte queste sterpaglie qua, hanno prodotto allora, ma che bello che è fischia, ci voleva, porca miseria, Proprio bello questo qua, fresco fresco, bene? Un po' asciutto ma è fresco. Non riesce neanche a vederlo, perché Ledon ha trovato uno, perché qua siamo in crisi. C'è il piccolo attaccato. Ma che roba, sono dorati argentati che hanno preso il freddo. E' il vento. Un po' vecchio ma... Eh, non avevo visto suo fratello. Questo è bello fresco. Un po' più giovane. Ah sì, ma che bello. E' perso. Abbiamo trovato ancora tre o quattro prima. Ma... Ma poca roba. Poca roba, poca roba. Un piccoletto. 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 saranno i caprioli ? no no sono morsi di lumaca eccolo lì siamo vicini alla macchina e ormai sarà o l'ultimo o uno degli ultimi come è andata nonna beviamo il caffè va che ci tiriamo su perché questo bottino poca roba c'è anche qualcosa di bello ma ragazzi freddo 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 oggi abbiamo provato anche in alto la 1600-1700 non vi dico non volevamo neanche scendere dalla macchina va bene sperando che non sia l'ultima e che la luna di dopodomani di ancora qualcosa ciao ciao